La normale soddisfazione è una cosa, non dico immaginabile, però arrivavamo da un anno con una raccolta di film molto importante, è fatta 450 volti prima, 550 quanti adesso, si è confermato e è aumentato il gap dei contrari alla fusione. Adesso si torna indietro con le funzioni che si possono portare a casa, si ritorna con il nostro personale, quello che è rimasto e non è andato già da altre parti, si rimbocca le maniche, si lavora normalmente, non c'è nessuna paura e noi non abbiamo invidia per chi prenderà milioni di euro, noi i contributi possiamo prenderli lo stesso, ce ne sono tanti, ne abbiamo buttati via 5-6 quest'anno perché non li abbiamo seguiti. In prima commissione ci hanno garantito che quello che deciderà la popolazione sarà da loro tenuto conto, Daya non ha mai voluto annettere un comune se era contrario, penso che continui in questa linea.